Occhio ai giornali di martedì 3 agosto 2021, siete sul canale 17 di Fano TV. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori. Allora cominciamo subito dal Santo del Giorno, oggi è Santa Sprenato, è stato il primo Vescovo di Napoli. Il sole è sorto alle 5.58 e tramonterà alle 20.30. Uno sguardo al tempo, andiamo sul sito della Protezione Civile delle Marche, per oggi cielo sereno, poco nuvoloso, temperature in diminuzione la notte, stazionarie le massime, attenzione ai venti lungo la costa oggi. Domani, mercoledì, ancora cielo nuvoloso, poi dal tardo pomeriggio aumenteranno domani le nuvole. Ci saranno anche nella notte tra mercoledì e giovedì possibili rovesci o temporali più probabili lungo la fascia costiera e primo collinare. Poi per quanto riguarda invece la giornata di giovedì, vedete il tempo cambia, quindi nella prima parte, nella mattinata di giovedì e per le prime ore della mattinata, rovescio temporali sparsi più insistenti lungo la fascia primo collinare e costiera. Dunque questa è la situazione del tempo. Ma per vedere invece che cosa oggi impone il dettaglio sulla costa, e questo è un servizio che noi facciamo soprattutto per coloro che decidono di venire qui sulla nostra bella spiaggia litorale adriatico, quindi vogliono fare qualche ora di mare, ci colleghiamo con il nostro bagnino di turno questa settimana che è Marco Giuliani della spiaggia Bagni Lido 3. Siamo a Fano. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a te. Allora, che ci racconti oggi? Oggi anche a Fano vedo una bella giornata di sole, quindi... Sì, oggi la giornata è iniziata con un bellissimo sole, proseguirà per tutto il giorno così. Forse un po' di nuvole oggi pomeriggio, ma niente di che. Vedo come sempre di prima mattina delle persone, poi lì in particolar modo nella spiaggia in cui ti trovi tu a Lido, insomma ci sono persone che camminano, fanno attività anche fisica, fa bene per le gambe, insomma gente che si muove già di primo mattino. Sì, sì, scelendo alle prime ore del mattino vediamo comunque un pochino di affluenza già dalle altre spiagge che percorrono tutta la spiaggia da molo a molo, praticano sport, camminano, anche dentro l'acqua. Quanti siete? Perché abbiamo capito che siete una delle spiagge più grandi, 500 ombrelloni non sono pochi da gestire. In quanti siete? Eh, noi siamo circa 7 tra bagnini in salvataggio, bagnini a terra che si occupano della spiaggia, quindi si occupano di gestione degli ombrelloni, pulizia, apertura e chiusura, più due bagnini in salvataggio. Beh, insomma, quindi siete una bella squadra. Magari facciamo così, apriamo questa novità che non ci siamo detti prima della diretta. Se riuscite magari a ritrovarvi, a fare anche una foto tutti insieme, l'ultimo giorno la facciamo vedere, così diamo il giusto spazio anche e visibilità ai tuoi colleghi. Ok? Tu sei quello che ci mette la faccia tutti i giorni, tutte le mattine, ma insomma anche gli altri hanno giusto, no? Gli diamo il giusto spazio. Se vi va, una foto di gruppo la facciamo vedere sabato tutti insieme. Grazie Marco, buona giornata e buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro. Allora, adesso andiamo a vedere i giornali, andiamo a commentare i giornali. La rassegna stampa che va in onda ormai da 15 anni sul canale, sul Fano TV, è una rassegna stampa che naturalmente, come tutte le cose, poi si è evoluta, si è modificata. All'inizio eravamo soltanto noi, facevamo soltanto noi questo servizio, quindi leggevamo le pagine di Fano, poi ci siamo allargati, abbiamo cominciato a parlare, far vedere le pagine di Pesero. Ora raggiungiamo tutta la regione Marche, ovviamente non ci siamo spinti fino là perché altrimenti sarebbe molto lunga come rassegna. Però l'abbiamo modificata un po' e quindi da rassegna stampa to cure, anche per una questione di rispetto nei confronti di chi lavora nella carta stampata e che quindi campa vendendo le copie in edicola, abbiamo deciso, ho deciso, di fare una rassegna stampa un po' diversa negli ultimi anni. Non vi facciamo più vedere tutte le pagine come si faceva una volta, ma abbiamo deciso di selezionarne alcune e di commentarle. Sperando di stimolarvi non solo un pensiero critico, che oggi non esiste più, ma anche quella di andare in edicola e comprare il giornale, dove troverete tante altre notizie che evidentemente non trovano spazio in questa rassegna stampa. Ma questo lo dico perché? Perché puntualmente alla fine di ogni rassegna stampa, perlomeno quella di Fano TV, arrivano messaggi che concordano con le cose che dico e altri invece che sono in disaccordo al netto degli insulti e delle parolacce. Ma questo avviene quando appunto si commenta una rassegna stampa, si commenta un giornale, una pagina di giornale, e non si legge Tucur così come se fosse il maggiordomo di turno. Ecco, questa non è una rassegna stampa dove vi leggiamo dalla prima all'ultima pagina. Abbiamo selezionato un po' di pagine e su quelle commenteremo. Chiaramente poi il commento può piacere o non può piacere. E con questa premessa, e dopo aver preso anche una tisana, non il caffè, perché il caffè agita, e in questi giorni devo dire che devo fare tanti respiri profondi perché i commenti altrimenti sarebbero pesanti. Allora, perché? Perché le cose non stanno andando un granché bene, a mio giudizio. E anche questo è un commento personale. Qualcuno potrà essere d'accordo, qualcuno no. Ma quello che voglio fare io, vorrei tentare di fare io, è di stimolare il pensiero, soprattutto un pensiero critico, perché la gente non pensa più, beve quello che gli viene proposto, senza fiatare. E allora, iniziamo a vedere il giornale innanzitutto. La prima pagina del Carlino di Pesaro. L'apertura è per i vaccini. L'assalto degli under 30, cioè di coloro che hanno meno di 30 anni. Prima la puntura, poi le vacanze. Al Ristò, al Ristò di Pesaro, quindi lab vaccinale, ieri mille somministrazioni. Quindi positivo anche il debutto del camper. Quel camper che l'Asur ha messo a disposizione e che è partito, ha debuttato a Borgo Pace. Mentre la prima pagina del Carlino di Pesaro di oggi è dedicata a una disavventura che è capitata ad una avvocatessa che ha trascorso 13 ore all'interno di un treno perché la linea era bloccata dagli incendi. Ce ne sono tanti, purtroppo in questo periodo le temperature, il vento caldo non aiutano. La mia odissea sul treno, questa è la fotonotizia. Poi le altre, in breve. D'urgenza in ospedale, collassa 15 anni dopo aver scolato una bottiglia di superalcolico. Questa è una piaga vera e propria di cui nessuno perlomeno se ne occupa, ma in realtà è davvero un problema. Un problema perché basta girare, per esempio andare a Lido, a Fano oppure a Pesaro, ma in qualsiasi altra città per vedere bande di ragazzini con queste bottiglie, tutti minorenni, con queste bottiglie di superalcolici in mano. Chiaramente la legge vieta la vendita di superalcolici ai minorenni, ma viene girata questa legge semplicemente con la complicità di qualche compagno o amico che invece ha più di 18 anni. Fano sono ore decisive invece perché oggi il Tar si pronuncia sui ricorsi, parliamo di calcio, di serie C, questa storia infinita, questa attesa soprattutto infinita per i tifosi del Fano. Poi torna la festa dell'unità, l'avvio è con Speranza. È il ministro che parteciperà nei prossimi giorni all'apertura della festa dell'unità che si tratterà a Pesaro e vedremo tra poco anche qualche dettaglio. Il Corriere Adriatico invece, edizione pesarese, apre con la rivoluzione delle opere pubbliche. Rigenerazione urbana, Ricci e la Giunta accelerano, già pronto il bando per un nuovo dirigente, Giraldi cambierà ruolo, una diversa task force per gestire i fondi ministeriali che sono in arrivo. Anche oggi a centropagina la fotonotizia è per Tamberi che ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto, ora per lui c'è il matrimonio, oro e gesso, in cornicio tutto quanto. Il gesso è quello che lui ha dovuto portare per un po' di tempo dopo l'infortunio. Ragazzino ubriaca, da star male arriva l'ambulanza, emergenza idrica, mancano i dati vertice rinviato e poi candele e unità, festa delle unità, feste confermate ma con il Green Pass. Qui invece di taglio basso, smart working, cioè lavoro da casa, è scontro in tv, una verità falsata, polemiche in consiglio a Fano sul servizio trasmesso da Rete4, il sindaco ammette gli uffici vuoti sono stati ripresi fuori dall'orario del lavoro. Allora, andiamo a vedere adesso alcune pagine. Pagina 5, per esempio. Allora, sulla pandemia, altri 4 positivi in ospedale, nelle Marche 2.095 contagi, ma il Covid non uccide più. Questo è sicuramente il dato più importante. I sintomatici sono 1.193, nuovi accessi anche nei pronto soccorso. Dunque, la buona notizia è che il Covid continua a contagiare, ma non ad uccidere e che da diversi giorni, ormai la drammatica conta delle vittime del virus è ferma a 3.039. Età media 82 anni e per il 97,2% affetti da patologie pregresse. Dunque, l'effetto vaccini ha fatto la sua parte, visto che ormai la maggioranza dei marchigiani fragili hanno la protezione anti-Covid totale. Tuttavia, gli esperti guardano con attenzione sia ai nuovi casi positivi, sia agli ingressi nei reparti ospedalieri. Ora, memorizzate quello che abbiamo appena letto. Memorizzate quello che abbiamo appena letto, perché è un dato importante, cioè l'effetto vaccini ha fatto la sua parte, visto che ormai la maggioranza dei marchigiani, fragili, hanno la protezione anti-Covid totale. Ecco perché i decessi, eccolo qua il numerino, i decessi sono zero. Per i sanitari no vaccine, invece, stop agli ultimatum partono 350 lettere. Anche oggi il Corriere Adriatico aggiorna sulla situazione di coloro che non si sono voluti far inoculare il siero, tra coloro che lavorano però nella sanità. La ricognizione è finita, ieri l'ultimo controllo, ora si parte con i provvedimenti. Nelle prossime ore l'Asur invierà ai datori di lavoro delle varie strutture regionali nominativi di circa 1.200 operatori sanitari Novax, quelli che hanno risposto picche alla reiterata richiesta di aderire alla profilassia anti-Covid. Probabilmente già oggi partiranno le prime 300-350 lettere procedendo a gruppi così da non sottrarre tutti insieme le risorse umane ai presidi e alle strutture sanitarie. Perché se ne mandiamo a casa di botte e chioppo, come si dice, dalle nostre parti 10-20 in un reparto li mandiamo tutti a casa e chiaramente quel reparto rimane sguarnito. Quindi va fatto un po' con piano piano. Mentre i vaccini, mentre il camper che è partito ieri da Borgo Pace, parlo della provincia di Pesorurbino ovviamente, ma ogni provincia ha il suo camper, la regione ha stabilito questo, quindi ogni provincia ha il suo camper, noi ci occupiamo della provincia di Pesorurbino e il camper è partito ieri, ha debuttato a Borgo Pace e ieri a Borgo Pace dicono è andata abbastanza bene. Perché? Perché 31 persone, tra cui anche qualche turista, ma anche dei ragazzini minorenni, hanno deciso comodamente di farsi il vaccino. Vediamo allora il giornale, a pagina 5 del resto del cremeo di oggi. Allora, qualcuno dice comodo e si risparmia tempo perché il tempo risparmiato era quello del viaggio andate e ritorno da Borgo Pace a Durbino. Essendoci il camper, questo viaggio è stato risparmiato. Le impressioni di alcuni, dei 31 immunizzati ieri mattina a Borgo Pace, un 23enne dice in questo modo ci siamo risparmiati il viaggio a Durbino, il primo cittadino invece il sindaco del paese dice fondamentale il servizio di prossimità e dunque, così come ha detto anche Eugenio Carlotti che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta numero 1, dice abbiamo avuto una buona partecipazione, abbiamo vaccinato usando il Moderna sugli under 60, mentre in quattro casi abbiamo usato il vaccino Johnson che è monodose. molti tra i vaccinati erano under 18. Nelle due prime settimane di agosto, quindi nei prossimi giorni, il camper vaccinale toccherà anche i comuni di Frontino, Carpegna, Monte Grimano, Sassofeltro e Tavoleto e Mercatino Conca. Ecco, queste sono le prossime date, i prossimi appuntamenti. La cronaca sulla pagina 7 del resto del Carlino, così come sul Corriere Adriatico, ci riferisce di una ragazzina di 15 anni che è finita in coma etilico, corsa ovviamente anche in ospedale per cercare di recuperarla. la giovanissima è collassata di schianto sabato notte, aveva bevuto insieme ad un coetaneo un'intera bottiglia di Jägermeister, quindi, insomma, tra l'altro è un liquore che ha una gradazione alcolica di 35 gradi, è stato acquistato questa bottiglia chiaramente da un maggiorenne, come abbiamo detto, e poi se la sono passata, come avviene spessissimo in questi casi. E c'è da dire che il caso di questa minorenne, questa minorenne, questo fatto è avvenuto a Pesaro, tra l'altro questa ragazza era insieme al suo compagno, il compagno a un certo punto che ha retto un po' più l'alcol, quando ha visto che la sua amica non rispondeva più, era per terra, non rispondeva agli schiaffi, agli stimoli, ha avuto paura, pensava fosse morta, qualcuno ha visto, ha chiamato il 118, è stata portata all'ospedale e poi lì, insomma, è stata piano piano ripulita. Però non c'è solo Pesaro, ma come dicevamo anche Fano, era sufficiente muoversi, scrive il giornale questa mattina, era sufficiente muoversi sabato scorso tra Viale Trieste a Pesaro e la zona Lido di Fano, dove migliaia di ragazzini avevano in mano in buona parte bicchieri con dei drink e proprio a Fano è stata soccorsa sulla spiaggia a lato del molo una ragazza che sembrava essere sul punto di collassare. Si è radunata molta gente, ma poi, per fortuna, la giovane è sembrata riprendersi. E questa è davvero una piaga. Perché? Perché non passa giorno che sia estate, che sia inverno, non passa giorno che ci siano ragazzi che bevono, bevono, si ubriacano fino a volte arrivare al coma etilico. E dalla pagina di Senigallia la notizia che centro e lungomare, nel centro, nella zona centro e nel lungomare, non si potranno bere bevande in vetro. C'è questa ordinanza del sindaco Olivetti che vieta la somministrazione dalle 20 alle 6 del mattino fino al 19 settembre. Questo per un motivo di decoro, ma anche di sicurezza. Niente più bevande o contenitori per alimenti in vetro nel centro storico. È entrata in vigore questa ordinanza varata dal sindaco Olivetti che resterà operativa fino al 19 settembre. Dalle 20, dalle 8 di sera fino alle 6 del mattino. L'ordinanza vieta a chiunque di introdurre o consumare nel zona indicate bevande o alimenti in contenitore di vetro nelle aree pubbliche. Quindi un provvedimento che non riguarda solo chi somministra al pubblico cibi e bevande, ma riguarda anche i consumatori che in questo orario non possono introdurre contenitori in vetro. Allora, questa è già una mossa intelligente che il sindaco di Senigallia ha messo in campo e che dimostra come il sindaco di Senigallia non perché sia di centrodestra ma perché è un uomo pragmatico che guarda non tanto alle stellette da appiccicare alla sua divisa bensì a risolvere il problema e questo problema lo certamente non lo risolverà in toto ma in gran parte sì. E qui 1 a 0 per Senigallia. 1 Senigallia Fano-Pesaro 0 Fano-Pesaro questa volta li mettiamo insieme poi andiamo avanti poi torneremo sul confronto Senigallia-Pesaro prova con un incidente con feriti rintracciate e denunciate una 27enne è un'altra notizia di cronaca sempre sulla pagina di Senigallia e poi è morto a 90 anni il pediatra Dario Mazzanti oggi il funerale alle 10 nella chiesa di San Martino ma la pagina di Fano invece del resto del Cardino si parla di una iniziativa della Fondazione Teatro della Fortuna perché? Perché attraverso questa iniziativa che è stata presentata ieri ci si potrà fare un tour virtuale quindi al computer all'interno del Teatro della Fortuna un tour per scoprire i suoi segreti celati alla vista della consueta prospettiva e questo è il regalo che la Fondazione ha fatto alla città per celebrare 158 anni dall'arrivo nella città della Fortuna del suo bellissimo Sipario opera di Francesco Grandi era infatti il 2 agosto del 1863 quando in città arrivò la gigantesca tenda dipinta dallo stimato pittore che a metà dell'Ottocento era stato designato dal Papa senegalese più nono per rinnovare alcune decorazioni delle più rilevanti basiliche e chiese del territorio pontifici ma anche del Teatro della Fortuna di Fano mentre sotto sempre sulla pagina di Fano 20 nuovi aspiranti piloti a Fano e cresce anche la flotta dell'Academy la scuola Eagle Aviation si è dotata di un aeroplano leggero da addestramento e le iscrizioni sono aumentate del 40% l'altra pagina invece che ho segnalato sempre che ho selezionato sempre per che riguarda Fano è sulla mozione Aset è un'intervista che Anna Marchetta ha realizzato con l'assessore Samuele Mascarin Mascarin che è stato il regista del no alla fusione tra Aset e Marche Multiservizi e che a questo punto dice lui si augura un confronto con Marche Multiservizi appunto e rilancia Fano come modello di centro-sinistra vincente e per l'assessore alla società partecipate appunto Mascarin è il momento di incassare il risultato politico della battaglia contro la fusione tra Aset e Marche Multiservizi ma la domanda e la risposta che ho evidenziato è questa Aset dove farà il biodigestore a Vallefoglia con Marche Multiservizi a Barchi con Ferronia oppure a Fano con Estra la domanda della Marchetti la risposta dell'assessore non faccio previsioni né auspici la scelta spetterà al Consiglio Comunale abbiamo compiuto un passo in avanti importante che consente all'azienda quindi ad Aset di aprirsi a possibili collaborazioni preservando la governance strategica pubblica il governo delle tariffe e la valorizzazione degli investimenti sull'impiantistica la politica fanese ha una grande occasione spero che non la sprechi questa è una parte come dicevo dell'intervista che potrete leggere sul Carlino di Fano di oggi addio al sindaco per passione invece la Valmarecchia piange mino Cerbara stroncato da una malattia Guglielmino Cerbara storico sindaco di Sant'Agata Feltri aveva 59 anni il ricordo che il giornale fa di questo grande uomo ora torniamo per un attimo a parlare a fare questo confronto tra Pesaro e Fano Senigallia scusate allora la notizia di oggi sul Corriere Adriatico andiamo sul giornale la festa dell'unità torna in piazza anteprima con il Ministro Speranza sarà a Pesaro il 23 di agosto due giorni dopo l'avvio della Kermess politica informazione e spettacoli l'iniziativa rispetterà come da norme le regole anti-covid e sarà obbligatorio il certificato verde per accedere agli eventi quindi Pesaro come abbiamo visto anche ieri insomma punta tutto su questo Green Pass Green Pass anche all'aperto quindi obbliga le persone che vogliono andare a queste iniziative così come alla notte delle candele candele sotto le stelle questa è l'altra notizia l'altro appuntamento vedete per candele sotto le stelle obbligatorio il Green Pass parliamo di un evento che si svolge all'aperto in spiaggia che più aperto di così non si può e Ricci annuncia anche addirittura tamponi gratuiti per quattro giorni insomma l'amministrazione scrive metterà a disposizione due punti per fare il tampone gratuitamente nei giorni 9, 10, 13 e 14 agosto abbiamo concordato con il prefetto che i controlli verranno effettuati a campione su tutto il lungomare cioè per tutti quelli che avranno il Green Pass verranno fermati dalla polizia dai carabinieri dalle forze dell'ordine verrà chiesto magari mentre voi siete lì beati sotto le stelle scusi lei ha il Green Pass ma sto godendo le stelle sto guardando le stelle mi viene a chiedere Green Pass Green Pass poi questo succede a Pesaro andiamo a Senigallia a Senigallia c'è un evento straordinario che si chiama Summer Jamboree che richiama migliaia di persone migliaia ovviamente quest'anno come l'anno scorso al Summer Jamboree che è un evento musicale quindi un evento dove è impossibile restare fermi è impossibile al massimo si può fare così con il piede puoi battere il ritmo con il piede mai muovere l'anca perché ti però 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 leggiamo che cosa scrive Sabrina Marinelli da Senigallia nel mercatino vintage sono eventi che ovviamente precedono questo importante avvenimento nel mercatino vintage non è stato necessario indossare la mascherina siamo sempre all'aperto come era stato invece raccomandato prima che iniziasse il festival gli accessi sono stati contingentati con un massimo di 4.000 persone in contemporanea tra Piazza del Duca e il Parterre della Rocca lo stesso è accaduto in Piazza Garibaldi accessibile senza indossarla la mascherina ma comunque da portare giustamente al seguito qui possono entrare 2.500 persone in contemporanea il pubblico del Summer Jamborì si conferma educato e rispettoso delle normative vigenti Senigallia 10 Pesaro meno 1 grazie a tutti Grazie a tutti.